E quindi Donnarumma non rinnova il proprio contratto con il Milan Sto leggendo in giro gente disgustata, schifata, che vergogna eccetera eccetera A me per carità tutto questo fa schifo Ma io sono entrato nell'ottica di quello che è il calcio moderno Molti di voi non ancora ragazzi Io leggo ancora in giro tantissimi di voi I tifosi più giovani soprattutto I tifosi meno esperti Diciamo così che ancora ci cascano ai gesti, ai finti gesti di questi qua A gesti come baciare la maglia, scrivere due cazzate, due puttanate sui social Sono cazzate ma si capisce da un chilometro lontano Icardi può abbindolare ai bambini che tifano la nostra maglia Ma non può abbindolare me Io so che lui resterà sempre all'Inter perché gli piace la vita milanese Eccetera eccetera Ma non sto nemmeno a contestare quelli che credono alle parole di Cardi Però ho la mia idea onestamente Donna Rumma fa parte della schiera del calcio moderno Un calcio moderno fatto soprattutto di soldi e di interessi Prima il calcio non era così L'epoche dei vari Zanetti Totti, Del Piero, Maldini Questi giocatori qua mettevano davanti Per carità sarei ipocrita a dire Ah loro dei soldi non se ne fregavano nulla Sarei ipocrita a dirlo Ma al primo posto mettevano la propria squadra di appartenenza Poi tutto il resto Ovviamente anche i soldi Oggi è l'esatto contrario Si mette al primo posto i soldi Poi tutto il resto Io capisco la rabbia dei tifosi milanisti È comprensibile Ma onestamente Per carità possiamo anche discutere magari da un ragazzino come Donna Rumma Non te l'aspetti Ma proprio perché è così ragazzi Questo vi deve fare entrare nell'ottica Che oggi non ti puoi fidare di nessuno Io perché ogni video dico Amate solo la maglia Amate solo la maglia Amate solo la maglia Ma perché ve lo dico? Perché gli unici innamorati Davvero Di tutto Siamo noi tifosi Che tifiamo questi mercenari qua Che Mentre noi ci facciamo il sangue amaro Vanno a mangiare la pizza insieme Comprano macchinoni Condividono le loro puttanate sui social E noi magari ci andiamo pure là dietro a sbavare alle cazzate che dicono Le finzioni che scrivono eccetera eccetera Questo è il riassunto ragazzi Tra i giocatori e i tifosi Se voi pensate che oggi ci sia ancora qualcuno innamorato della maglia In Italia, ovunque Non avete capito il calcio cos'è oggi Il calcio non è questo Non viviamo più nelle favolette Non viviamo più nelle favolette Purtroppo così è Ed io per questo Chiudo questo video Dicendovi Per l'ennesima volta Amate solo la maglia Che siate tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, del Napoli, dell'Albinoleff e del Crotone Perché oggi Gli unici innamorati della nostra maglia, del nostro club Siamo noi tifosi Basta Nient'altro I mercenari Non ci riguardano I giocatori vanno e vengono Donnarumma è l'esempio È l'ultimo esempio di un calcio che ormai non esiste più Quello sentimentale Io sono un tifoso sentimentale Ma mi sto adattando ad un calcio che ormai È cambiato ragazzi Ficcatevelo in testa Purtroppo è così Cari miei Io non ho nient'altro da dire con questo video Mi dispiace se i tifosi milanistici sono rimasti male Per Donnarumma Però il calcio è questo Dovete entrare ben presto in quest'ottica qua Ciao amici Ci sentiamo presto